ciao amiche benvenute sul mio canale in questo breve tutorial vi voglio mostrare come si fa per realizzare il punto alto in rilievo davanti questo punto io l'ho utilizzato per fare il collo del cappottino della mia cagnolina perché è un punto molto compatto e nello stesso tempo soffice ed elastico l'ho utilizzato anche per fare il giro maniche e devo dire che il risultato mi è piaciuto molto è davvero molto molto bello vediamo subito come si fa io ho fatto una catenella e ho realizzato il primo giro tutto a punto alto ho fatto 3 catenelle per girare il lavoro e queste 3 catenelle sostituiscono il primo punto alto adesso prendo il filo lo metto sull'uncinetto punto l'uncinetto nello spazio sottostante lo faccio passare dietro alla colonnina del punto alto sottostante estraggo il filo e faccio il mio punto alto solito quindi prendo il filo lo punto nello spazio sottostante giro l'uncinetto faccio passare l'uncinetto dietro alla colonnina del punto alto estraggo il filo e faccio il punto alto normalmente in questo modo ecco fatto così vedete molto semplice il filo lo punto lo passo dietro ecco fatto ecco in questo modo qua si formeranno delle colonnine che sono quelle che danno la carri sono la caratteristica proprio del punto il retro del punto invece è formato e caratterizzato da questa riga in rilievo come vedete mi spiace soltanto che voi non possiate sentire la morbidezza del punto però ecco potete immaginarlo perché vedete com'è bello bello grosso voluminoso e vi posso garantire che è molto molto morbido il tutorial è terminato spero di essere stata abbastanza chiara se avete dei dubbi non esitate a scrivermi voglio mandare un saluto e un abbraccio particolare a tutte le gomitoline di gomitolando e ci vediamo al prossimo video tutorial ciao